salve a tutti siamo qui con il signor pennese allenatore del pescarasiti e con il signor di virgilio allenatore della zero stile mai presidente basta è normale che ci vedete il braccio così c'è qualcosa voi avete alzato noi invece siamo dentro la parte televisiva allora diciamo un pareggio quindi non serve a nessuno classico pareggio non serve a nessuno però un punto per uno che pur non servendo diciamo non scontenta nessuno io sono scontentissimo mi hai fatto un esordio orribile ti rimetti oggi sì probabilmente sì sono qui appunto per annunciare questo andrò a zero stile fino a natale giusto noi annunciamo nuovo allenatore scusa vittoriano non te l'ho detto sia esonerato il nuovo allenatore a zero stile è mirco pennese posso allenare due squadre allo stesso tempo no però tanto voi quando allenate giovedì è perfetto come mercoledì uno giovedì è importante che spostiamo quando ci stanno le partite tanto penso che non c'è problemi per me si può fare se Maselli è d'accordo quindi nuove news queste sono le interviste che vogliamo queste sono il calcio verità parlato il presidente nient'altro da aggiungere dichiarazioni scioccante è stato bello ricevere questo ma il panettone lo mangio almeno con te oppure questa è dura abbiamo tutta la cena di natale vabbè però la cena la facciamo in smoking assolutamente come la zero stile vuole ogni anno cena col dress code in tight perfetto tight sta per di giacchette che tu hai perso in abito da sera in smoking a quadri sì perfetto molto piacevole come cosa e vogliamo aggiungere qualcosina magari una partita no no non interessa da parte nostra vorremmo recriminare per il gol che è stato annullato alla fine come peccato che non avete il bar alla wisp però era dentro il colpi testa con cordica raccoglie assolutamente io ho perso 3 a 2 fino al momento in cui avete esultato tutti per un gol che non è entrato era proprio gol non è non si preoccupa però fa parte del gioco l'arbitro non l'ha visto ma quindi l'episodio della serata questo il gol inventato va bene quindi quindi fin da 3 a 2 sappiato abbiamo perso 3 a 2 vincitori morali molto bello grazie molto interessante perché continuano a guardare sempre televisivo penso che quanto dovrà lavorare ma se li su questa intervista comunque grazie di tutto il nuovo allenatore da zero stile picco pennese dal giovedì al sabato e vi salutiamo con i tre punti fantasma ciao